Musica 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 e in particolare un grazie anche al direttore artistico della manifestazione, il paese Paolo Di Vardo, al padre Obrancho e in particolare al padre Nantino che è sempre molto sentibile a lungo manifestazione e ovviamente anche alla prova, che mi chiamo, è nella persona del presidente, il dottor Vittorpe Capo, che è in cui può fare il suo saluto. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Marcia militare. Apera 51.01. Disciove. Esegono a performanni. Clioca militare. Sì. Grazie. 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 Francesco De Lucia. Grazie. Piemonte Gagliari. Pasquale Mazzarella Luigi Paolito Luigi Nessiello Victoria Pugliela Oriana Pardevala Ardolino Francesca Raffaella Armino Giussi Di Nicola Passiamo a tutti, questi sono tutti i cosicetti che si sono intibiti ieri sera. Andiamo a tutti i cosicetti che si sono intibiti di questa sera. Anna Quirotto Anna Quirotto Applausi Maria Eribe Maria Eribe Maria Eribe Maria Eribe Maria Eribe Antonio Pugliela Antonio Pugliela Antonio Pugliela Maria Eribe 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 Grazie. Grazie. Grazie per un attimo qui vicino a me, il direttore artistico della serata, il maestro Paolo De Fatto. Grazie. 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 Grazie.